Stavo pensando, preferite essere felici o contenti? Perché in realtà è un trucco quello che si sono inventati e che in qualche maniera, da un punto di vista linguistico, sapete che poi l'aspetto della lingua, e cioè la parola, condiziona fortissimamente il pensiero, perché la parola diventa concetto. E il concetto è poi ciò che è il contenuto mentale attraverso il quale filtriamo la realtà che passa attraverso i sensi ma deve essere poi immagazzinata a livello cerebrale e quindi deve essere, diciamo, inscatolata in un concetto che è appunto una definizione. E nel momento stesso in cui impariamo sin da piccoli che, diciamo così, il concetto di felicità e il concetto di contentezza si equivalgono, a questo punto questa equivalenza si stabilisce a livello di connessione neurale, attraverso i nostri neuroni, appunto contenenti informazioni di questo tipo che vengono identificate come coincidenti, equivalenti, a questo punto siamo rovinati. Perché siamo rovinati? Perché se noi tornassimo un po' alla questione dell'etimologia, che io continuo a considerare fondamentale, a consigliare a tutti, ci renderemmo conto che tanto quanto la felicità, che continuo a propagandare, a consigliare, a prescrivere a chiunque, affonda le sue radici a livello etimologico nel concetto stesso di produttività e quindi di capacità, disposizione, d'animo a produrre i propri frutti, i propri frutti e quindi fruttificare. Quindi felice è colui che è fecondo, che ha la capacità di, appunto, di dare frutto, no? È qualcosa che ho continuato sempre a ripetere, potete trovare molte mie considerazioni a riguardo sia su questo canale, ma anche su una rubrica che avevo tenuto un anno e mezzo fa, nell'estate del 2022, per Bio Blu, che si intitola Le parole che parlano e che è proprio una rubrica in cui si tratta di tante parole, una per ogni puntata, e c'è una puntata importante sulla felicità. Ecco, nel momento stesso in cui si comincia a far coincidere la felicità che è un dare, è un dare se stessi, e quindi non richiede nessun limite, perché anzi pretende la piena realizzazione di sé, no? Guardate che cosa ho intorno, ogni realtà vivente richiede, pretende di dare il proprio frutto nella totale purezza di se stessa e non accetta alcun limite, ecco, nello stesso momento invece la contentezza deriva proprio dal concetto del contenimento, del contenersi, no? Quindi chi è contento è chi si contiene, cioè chi si limita e, diciamo, si, come infatti poi si dice, si accontenta di quello che ha, del poco che ha e si comincia poi a parlare delle piccole cose di tutti i giorni e via di seguito. Aspetto importante, importantissimo quello di essere, come si può dire, in grado di apprezzare la quotidianità e le piccole cose, ma questo apprezzare non significa contenersi, limitarsi a questo e in questa maniera rassegnarsi a non avere null'altro. E questo è il trucco di chi poi di fatto ci insegna ad accettare e ad accontentarsi delle piccole cose, ma di fatto è chi ce lo insegna poi in realtà delle piccole cose e non si accontenta per nulla, no? E il grosso della ricchezza e dei beni di questo pianeta va nelle mani di pochissimi che hanno proprio zero interesse, zero disponibilità ad accontentarsi delle piccole cose. E allora ecco che questa contentezza deve essere, semmai, diciamo così, considerata tale e accettata nel momento, nel senso che, così come è molto importante accettare la realtà attuale, l'istante, il momento presente, perché è l'unico modo poi per combatterlo, perché molto spesso noi commettiamo l'errore di non voler accettare una certa situazione e non volerla accettare significa poi non essere in grado di valutarla in maniera il più possibile oggettiva e fredda e razionale e poi di poter a quel punto provvedere a, diciamo così, a contrastarla, a combatterla. Quindi è importantissimo accettare e in questo senso accettare anche ciò che di buono si verifica nell'istante, nel momento, e quindi ciò che di bello abbiamo intorno. In questo possiamo essere, diciamo, disposti alla contentezza, ma questa contentezza non deve significare che quindi mi accontento e dunque limito le mie aspettative, perché io voglio tutto come vuole tutto chiunque è vivo e ha intenzione di poter dare tutto se stesso. Questo tutto non significa volere tutti i beni, tutte le ricchezze, significa volere tutto ciò che mi permette di essere me stesso e non accettare nessun limite da nessuno. Questo è fondamentale. Quindi io credo che debba essere importante rendersi conto di questo aspetto, perché io conosco soltanto persone che si accontentano e che quindi passano la loro vita in tono minore, in tono minore facendosi in realtà calpestare, non facendosi amare, ma amare, accettando di essere sfruttati, utilizzati, accettando di vivere la propria quotidianità in situazioni di totale, come si può dire, di totale inautenticità. Ma questo è un accontentarsi che di fatto significa un morire dentro e li lasciamo, li lasciamo a loro stessi, coloro che accettano questo, perché quello che a noi interessa, quello che deve interessare a chiunque sia vivo, è di avere tutto ciò che gli permetta di essere se stesso e di realizzare la propria natura. E questo è di fatto coincidente col pretendere una condizione nella quale essere felici. Quindi felici sì, se questo significa realizzare noi stessi e soltanto questo significa essere felici. Contenti no, se significa accontentarci, contenerci e quindi limitare la nostra possibilità di sbocciare, di dar frutto a questo mondo che non sta aspettando altro che la nostra piena, totale, autentica realizzazione.